Everybody now! Yeah! Take your pen to the corner... Yeah! Yeah! Come on now! Everybody! Ah, per... Ah, va bene, allora dovremmo andare. Stia pure più vicino al tapeto che sei pronto ad andare in mezzo. Se per caso non dovessi esserci... Buonasera signora, ben arrivata! Per il suo biglietto. Grazie. Buona serata. Buona serata. Buonasera signor Marozzi. Grazie. Il suo biglietto. Buona serata. 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 Buona serata.